Quando pensiamo a un onere extra, un carico di lavoro extra, qualcosa di extra, ecco che subentra il 10 di bastoni. E anche se questo è un arcano che ti appesantisce, ti rende le cose più difficili, devi entrare nell'ottica che potrebbe solo rappresentare un passaggio momentaneo nella tua vita. Quindi a volte, farti carico di questo onere gravoso che sembra essere un fardello troppo importante per te, risulta invece l'unica strada per raggiungere il tuo fine. Magari, invece di scappare via da quelli che sono i tuoi impegni, potresti renderti conto che non devi affrontarli tutti insieme, non devi fare come un cerotto, strappare tutto alla volta. Certo, il carico di lavoro è importante, ma spalmalo nel tempo, prenditi più giorni. Entra nell'ottica che hai più tempo per espletare la tua attività, più tempo rispetto a quello che potresti pensare di avere. Quindi, in modo molto semplice ed immediato, credo che nei prossimi giorni, più che provare a interagire direttamente sui tuoi impegni, aggredendo gli impegni, devi cercare di fare un lavoro qualitativamente importante e lavorare sulla quantità di tempo che ti serve per portarli a termine. Quindi, da un lato, dimostrare la maggiore efficienza possibile, dall'altra, liberare tempo. Liberare tempo per il relax, liberare tempo per il riposo, liberare tempo per tutto ciò che ti serve per non scoppiare. Lo so, lo so, potresti essere tra le persone che mi dicono, ma guarda, io sono quasi arrivato alla fine della mia esistenza, della mia vita, non ce la faccio proprio più, non posso fare tutto quello che dici. Allora, renditi conto che, come tutti i dieci di Tarocchi, dieci sono sempre una massima evoluzione all'interno di quel seme e poi si vanno a rigirare in un seme successivo, quindi in un'altra energia, ecco, tutti i dieci rappresentano il completamento di un ciclo. E così possiamo anche pensare che è la fine del percorso in vista. Quindi ti chiedo di resistere un pochettino, se proprio pensi di non poter assecondare le direttive di questo dieci di bastoni. Ad ogni modo, lavoriamo a bomba proprio su questo stato di cose, chiedendo ai Tarocchi quali compiti posso delegare oppure eliminare per questa settimana. Noi ci vediamo domani per il tiraggio della settimana quali compiti posso delegare oppure eliminare.